I tre punti di Gorgonzola, oltre ad avere confermato la vocazione da trasferta del Teramo, capace di tre blitz consecutivi, hanno riproposto il dilemma che l'accompagna ad inizio stagione. Quella biancorossa è una squadra destinata a soffrire fino alle ultime giornate per salvarsi senza passare pre-playout, oppure potrebbe addirittura guardare più in alto. Queste le cifre a sei giornate dal termine della stagione. I biancorossi viaggiano a più quattro dalla zona che scotta e a meno tre dai play-off. Come dire, il futuro biancorosso è ancora tutto da scrivere. In ogni caso, nell'immediato, la parolina magica da tenere a mente, come sempre, è la seguente, continuità di prestazioni e soprattutto di risultati. E allora, nella seconda trasferta consecutiva di Renate, che tra l'altro chiuderà il ciclo di scontri salvezza per il Teramo, dovrà arrivare la risposta forse definitiva sul finale di stagione che attende il diavolo. In caso di risultato positivo o addirittura di pocherissimo, la squadra di Maurizzi piazzerebbe un allungo probabilmente decisivo in ottica salvezza diretta e addirittura potrebbe anche aspirare ai play-off. Tuttavia, la recente esperienza insegna che guardare troppo avanti può essere deleterio. E allora, carpe diem. Domenica bisogna indossare l'elmetto in Brianza contro il Renate. Maurizzi punta a recuperare pienamente il bomber infantino, che a Gorgonzola è rimasto in panchina per il riacutizzarsi del dolore al calcagno, e torna a disposizione Persia, che ha scontato la squalifica. In casa Renate rientra l'attaccante Gomez. All'andata, la sfida del Bonolis si chiuse 2-2.